Si tratta di far degustare l'andugia nel migliore dei modi per assaporarne i profumi e gli odori, ma anche per consumarla in un modo nuovo. Noi diciamo una consumazione comunitaria, cioè si mette al centro della tavola lo scaldo l'andugia, con l'andugia, e tutti a turno possono assaggiare questa specialità parlando, chiacchierando, commentando, dicendo se è piccante o meno piccante, buona o meno buona, commentando i sapori e i profumi. È un'idea che noi riteniamo interessante, soprattutto se è fatta d'inverno, magari al calore di un caminetto.